gentili telespettatori buona giornata beppe cioè giuseppe provenzano che è il vice del pd ricordiamoci quello che teorizzava di buttar fuori dal parlamento fratelli d'italia perché secondo lui incostituzionale non si sa per quale motivo oggi dice che del mastro e donzelli sono un pericolo per la nazione in realtà del mastro e donzelli sono un pericolo per il pd non per la nazione perché hanno rivelato tramite la divulgazione di documenti riservati ma non segreti hanno divulgato la notizia che quattro del pd sono andati a trovare un detenuto che il detenuto prima gli ha detto prima di parlare con me parlate con i mafiosi e loro sono andati a parlare hanno eseguito gli ordini del detenuto all'ergastolo pensate un po e poi avrebbero incitato questo cospito a continuare lo sciopero della fame perché incitandolo a continuare lo sciopero della fame per farsi cancellare il 41 bis poi avrebbero additato la sinistra avrebbe additato la meloni ecco sta per cancellare il 41 bis a tutti ecco perché hanno arrestato matteo messina denaro la mafia lo ha fatto arrestare per poi farsi cancellare il 41 bis dal governo meloni accordo stato mafia avete capito quello che praticamente donzelli e del mastro hanno svelato e per provenzano sarebbero un pericolo per la nazione no sono un pericolo per il pd perché hanno divulgato la vostra il vostro essere hanno svelato agli italiani e agli elettori del pd chi siete veramente quella parola partito democratico bisognerebbe solo chiamarlo partito il p il partito dice che partito è si chiama il partito perché la parola democratico andrebbe decisamente cancellata è al posto che pd lasciamo solo p no gli esponenti del p del partito o p a partito anonimo la premier giorgia meloni ha chiesto a tutti i politici giornalisti opinionisti di abbassare i toni perché non ci si debba domani guardare indietro e scoprire che non comprendendo la gravità di quello che stava accadendo abbiamo finito per essere tutti responsabili di un escalation che può portarci ovunque assolutamente ragione ma dall'opposizione non interessa perché per loro alzare i toni è serve per andare contro il governo meloni ma hanno ottenuto un effetto contrario cioè loro alzando i toni e accusando donzelli e del mastro pensavano di spostare e di concentrare l'attenzione del pubblico italiano su donzelli e del mastro due pericoli per la nazione due cattivi che rivelano segreti di stato invece gli italiani che cosa hanno capito hanno capito tutt'altro cioè hanno capito le cose giuste cioè che del mastro e donzelli hanno rivelato chi sono veramente quelli del pd e perché sono andati in quel carcere a parlare con quella persona quindi è stato l'effetto controproducente loro ingigantiscono questi fatti per attaccare il centrodestra l'effetto che hanno ottenuto è che l'opinione pubblica ha detto anvedi questi del pd hai capito che cosa che giochini fanno dietro le quinte tosse quindi il pd non impara mai per anni ha costruito un partito contro berlusconi poi un partito contro salvini oggi un partito contro meloni loro sono quelli che sono contro quelli che governano nel momento quindi è un partito basato sul dire che gli altri sono cattivi era illogico che il 22 25 per cento una persona su quattro in italia potesse continuare a votare per un partito che non ha niente non ha visione per non argomenti ma l'unica cosa che dice è che gli altri sono cattivi mostrando poi che i veri cattivi sono loro vanno in carcere a mettersi d'accordo con un detenuto contro il governo infatti la domanda di donzelli era legittima ma voi da che parte state con lo stato con la mafia ha fatto una domanda non ha fatto un'affermazione ha fatto una domanda pertanto anche poi la querela nei confronti di donzelli del mastro finirà in un nulla perché quelle informazioni seppur riservate erano già finite su un giornale che aveva pubblicato tutto quindi non era una prima no come la prima televisiva non era una prima parlamentare era era diciamo un qualcosa di già trasmesso non era in prima visione intanto vabbè poi c'è la polemica di oggi su gli articoli falsi usciti su un giornale controfazzolari che vorrebbe portare gli alunni nei poligoni di tiro no vabbè insomma si sta mostrando una sinistra davvero ma davvero infantile e poco democratica cioè da una parte infantile e e anche poco democratica molto poco democratica di democratico non hanno assolutamente nulla quello che fanno dietro le quinte è incredibile e donzelli e e del mastro ci hanno fatto conoscere una qualcosa in più per farci capire meglio chi sono questi piddini eh questi che si freggiano del titolo democratici ricordatevi che chi si definisce democratico significa che non reputa gli altri democratici no se noi siamo il partito democratico gli altri non è che sono democratici e noi siamo i democratici gli altri cosa saranno qualcos'altro già chi si loda si imbroda come si dice grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci e grazie